disbiosi e alterato metabolismo proteico qual è la correlazione tra queste due entità ultimamente si utilizza molto un test molto semplice da effettuare che è il disbiosi test sulle urine un test molto semplice che appunto misura nelle urine la concentrazione di due metaboliti del triptofano che sono l'indolo e lo scatolo valori elevati di questi due metaboliti sono indicativi di una proliferazione batterica non controllata a livello intestinale nell'intestino tenue o nel colon e molto spesso i criteri interpretativi che danno sono quelli di un indicano elevato indicativo di una disbiosi fermentativa soprattutto a carico del tenue e uno scatolo elevato indicativo di una disbiosi putrefattiva a livello del colon in realtà non ci sono evidenze scientifiche che correlino le elevazioni di questi due metaboliti nello specifico sia una localizzazione del tratto intestinale interessato sia al metabolismo di tipo fermentativo in realtà valori elevati di indicano e di scatolo sono in realtà indicativi di un metabolismo di tipo putrefattivo e cercherò di spiegarvi il perché. Scopriamo insieme questo test! Facendo un passo indietro quello che interessa a noi nel disbiosi test e l'urine ovvero i metaboliti dell'indolo e dello scatolo derivano dal metabolismo il triptofano. Il triptofano è uno dei nuovi amminoacidi essenziali che non siamo in grado di produrre noi pertanto è importante, è essenziale assimilarlo attraverso la nostra alimentazione. Ha una struttura eterociclica composta da un anello benzenico a 6 carboni e un anello pirrolico. Essendo un amminoacido si trova tipicamente nelle proteine, ne sono molto ricche le carni, pesce, uova, anche i legumi. Pertanto chiaramente chi ha una buona rappresentazione proteica nella propria dieta è sicuramente ricco di questi precursori. Ora, quello che a noi interessa intanto è scoprire qual è il ruolo fisiologico del triptofano e dei suoi metaboliti. Come in questa schermata che vi mostro sui pathway fisiologici del triptofano si evidenzia il fatto che il metabolismo sia fisiologico che batterico produce tutta una serie di derivati metaboliti come l'indolo, lo scatolo, l'acido indolo acetico, indolo propionico, indolo lattico, triptamina e via dicendo, che in realtà in concentrazioni fisiologiche hanno un ruolo di maturazione sia a livello intestinale che digestivo. Per esempio alcuni derivati dell'indolo stimolano il rilascio di 5-idroxitriptamina, di serotonina a livello delle cellule entocromaffine dell'intestino che interagendo con dei recettori regola la motilità intestinale. Quindi un eccesso di metabolismo del triptofano, di produzione di triptamina, è indirettamente in grado di favorire una iperperistalsi, ovvero favorire potenzialmente anche fenomeni di diarrea o di disenteria. Inoltre questi derivati dell'indolo sono in grado di interagire con dei recettori degli idrocarburi sulla superficie delle cellule epiteliali, favorire il rilascio di interloquina 22 che svolge tutta un'azione di modulazione sul sistema immunitario adattativo, quindi anche nel processo di educazione del sistema immunitario. Inoltre l'interazione con i recettori favorisce il rilascio di GLP1 che è un ormone che regola la secrezione dell'insulina e in questo modo favorisce anche un rallentamento dello svuotamento gastrico. Inoltre alcuni derivati dell'indolo quando raggiungono la circolazione sanguigna possono influire su alcune funzioni di controllo dello stress ossidativo e infiammatorio. Quindi vedete come il metabolismo del triptofano, dei suoi derivati, è in grado di regolare tutta una serie di funzioni fisiologiche. Tuttavia se c'è a monte un'alterazione della funzione digestiva delle proteine, dei suoi substrati, una maggiore quantità di triptofano non digerito o non ben assorbito a livello dell'intestino tenue può aggiungere sino nelle porzioni più distali del colon, sia dell'intestino tenue ma anche dell'intestino crasso ed essere metabolizzato da alcuni batteri appunto in maniera eccessiva in questi derivati che sono appunto l'indolo e tutti i suoi derivati. Quindi praticamente questo aspetto, una maldigestione proteica a monte, magari dovuta ad esempio a ipocloridria, cioè bassa produzione di acido cloridrico oppure inadeguata produzione di enzimi digestivi e di proteasi o ad esempio una concomitante presenza di SIBO e danno all'intestino tenue, favorisce questo passaggio, questa aumentata disponibilità di triptofano per questi batteri nel colon. Questo unito ad esempio ad aspetti come rallentato transito, aumento del pH del colon ed altri fenomeni può facilitare una proliferazione di alcune specie batteriche che sono specializzate nel metabolismo del triptofano. Infatti vi faccio vedere in questa schermata appunto tutta una serie di famiglie che sono state correlate a un' iperproduzione di indolo e quindi di inticano e tra queste per esempio compaiono anche delle famiglie opportuniste o patogene come l'escherichia coli, il desulfovibrio, il famoso produttore di idrogeno solfato, l'enterococcus fecalis, il fusobacterium nucleatum, fino a tante altre famiglie come la clebsiella, il citrobacter, lo pseudomonas. Tutte famiglie che rappresentano hanno, svolgono un'azione opportunista che quando proliferano sono in grado di creare ulteriori danni attraverso la produzione di metaboliti tossici e infiammatori. Come vedete quindi non c'è una singola famiglia o specie batterica che può essere responsabile di questa aumentata produzione di indolo, di indicani, ma possono essere più famiglie, più specie batteriche. E inoltre non c'è da dimenticare un fatto che un'elevata produzione di indicano nel test del disbiosi test delle urine non è necessariamente indicativo di SIBO perché questa proliferazione batterica relativa a queste famiglie che vi ho menzionato può avvenire non necessariamente nell'intestino tenue ma anche nel colon, soprattutto nel colon più distale, ok? In realtà l'iperproduzione di indicano può avvenire anche in concomitanza con la SIBO, quindi la SIBO, la sovraccrescita batterica nell'intestino tenue, può essere un fenomeno parallelo e concomitante, per cui il disbiosi test sulle urine può essere indicativo di una di una disbiosi putrefattiva, di una maldigestione proteica, ma potrebbe anche non essere correlata alla SIBO, quindi i due test potrebbero avere esiti diversi. Altre sì, potrebbero anche avere entrambi esiti positivi, per cui per questo è consigliabile effettuarli entrambi. Quindi, come vi dicevo prima, quali sono le condizioni associate a questo indicano elevato? Ora, come vi ho accennato prima, l'ipocloridria, le gastropatie di tipo autoimmune, una bassa produzione di enzimi digestivi che sottintende una maldigestione proteica, una condizione anche di diarrea eccessiva e incontrollata può essere legata a questa proliferazione batterica. Una Leaky Gut Syndrome, un'eccessiva permeabilità intestinale che non permette di assorbire adeguatamente peptidi o metaboliti o diciamo substrati del triptofano a livello dell'intestino tenue, rendendo questi substrati disponibili a questa fermentazione putrefattiva. Quindi, veniamo al test. Ora, in questa schermata vi mostro quello che è il tipico esito di un test. Ora, in questo caso che io vi mostro come esempio, questa persona aveva un indicano alle stelle, 147 mg litro. Dai parametri di laboratorio, valori al di sotto di 20 sono negativi per questa disbiosi putrefattiva, tra 20 e 40 una disbiosi lieve e oltre generalmente i 40 mg litro sono indicativi di una disbiosi putrefattiva molto molto elevata. E come vi dicevo poc'anzi, quindi malattie legate alla presenza di SIBO che possono determinare appunto un danno a livello intestinale e un malassorbimento. Sindromi da malassorbimento, quindi legate alla Leaky Gut Syndrome, possono anche da sole rappresentare una ragione per questa elevata produzione di indicano. Infatti è possibile anche trovare valori di indicano elevati nelle urine anche di persone che hanno un buon equilibrio del microbiota, che non hanno necessariamente tutta una serie di sintomatologie manifeste. E quindi in realtà in queste persone quello che è da correggere è l'aspetto digestivo a monte, magari l'ipocloridria o il, diciamo, la funzione digestiva. Quindi ricapitolando, le possibili cause di un test dell'indicano elevato possono essere la bassa acidità di stomaco, la produzione insufficiente enzimatica, il malassorbimento proteico, la concomitante possibile presenza di SIBO o di Leaky Gut Syndrome e soprattutto l'elevato apporto proteico nell'alimentazione. Ricordatevi quindi che qualora si dovesse riscontrare un'elevata presenza di indicano o anche di scatolo nelle vostre urine, è chiaro che, dato che queste derivano da un alterato metabolismo putrefattivo del triptofano, in gran parte dei casi sono conseguenti a una iper rappresentazione di proteine nella propria dieta. Quindi se vi trovate a seguire per troppo lungo tempo una eccessiva rappresentazione a quota proteica nella vostra dieta, questo sicuramente non facilita, anzi può peggiorare questo metabolismo putrefattivo. Quindi uno dei primi interventi può essere appunto quello di correggere l'apporto calorico, insomma, dato dalle proteine, dalla frazione proteica nella vostra dieta e in modo da, in qualche modo, controllare o ridurre questa iperproliferazione. E soprattutto indagare anche eventuali altre cause che possono sottintendere a questa proliferazione batterica e a questo metabolismo putrefattivo. Quindi in realtà le condizioni in cui si suggerisce o si raccomanda di effettuare questo test sono molteplici, sia dai sintomi tipicamente gastrointestinali come gonfiore, diarrea, difficoltà digestive, soprattutto in relazione alle proteine. Quanti di voi mi raccontano che hanno una particolare difficoltà digestiva in relazione alle proteine? E quindi in questo caso questo test è molto appropriato e indicativo. Quindi ricordatevi la lezione di oggi, il test dell'indicano dello scatolo è in realtà un indicatore di un metabolismo putrefattivo non fermentativo che è soprattutto legato a una maldigestione, un proteico nella propria alimentazione e che è sostenuto dalla proliferazione di microorganismi proteolitici e non quelli saccarolitici. Certamente l'indagine delle cause non si ferma qua, è utile allargare la propria visione ed esplorare la funzionalità di altri test e ricordate le implicazioni che questo test può avere sia in termini terapeutici che dietologici. Se avete delle riflessioni in merito, come sempre lasciate dei commenti qui sotto in calce o visitate il blog di sbiosidoctor.com Grazie a tutti.